Nomadelfia News 20 dicembre 2014. Domenica 14 è stato amministrato il battesimo a Ariel e Katrin. Inviamo poi gli auguri di Buon Natale a tutti con alcune immagini dei presepi viventi dell'anno scorso. Oggi Ariel e Katrin stanno per ricevere il battesimo di Cristo nell'acqua e nello Spirito Santo. Essi aspettano da noi di essere aiutati ad accogliere Cristo in loro, affinché possano affermare con il profeta e che noi possiamo insieme con loro dire, io gioisco pienamente nel Signore. La mia anima esulta nel mio Dio perché mi ha rivestito delle vesti della salvezza. Questo lo auguriamo, ma nello stesso tempo ci impegniamo a far sì che in Nomadelfia, con la buona volontà non solo dei genitori del padrino e della madrina che rappresentano un po' tutti noi, ma tutti quanti insieme come popolo, come un popolo che è tutto impegnato nella educazione e formazione di tutti i giovani e di tutti i figli a far sì che tra le tante voci che solcano l'etere la voce di Dio non rimanga sopraffatta, ma possa davvero raggiungere i nostri cuori. Io ti dantezzo nel nome del Padre, del Figlio e del Mascutico Santo. Grazie. 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 Grazie.